Ciao ragazzi, io sono Deborah Frabotta e ho frequentato anche io più o meno dieci anni fa il Liceo delle Scienze Umane. Adesso sono una psicologa clinica, mi sono laureata alla Sapienza, prima con una laurea triennale in Scienze Tecniche Psicologiche e poi con la magistrale in Psicologia Clinica. Sono anche tutor DSA e dopo l'esame di Stato adesso svolgo la libera professione. Mi occupo sia dell'adolescenza che dell'età adulta ed è un lavoro che mi dà tante soddisfazioni a livello umano, tante emozioni. Io ho vissuto benissimo gli anni del Liceo, era il mio posto felice, mi trovavo molto bene con i professori ed era veramente un ambiente che mi faceva sentire a casa. Quindi mi sento di consigliarvi questa scuola e vi auguro di proseguire la vostra formazione seguendo sempre i vostri sogni, che è la cosa più importante ed è poi quello che ci arricchisce giorno dopo giorno. Ciao a tutti!